Ho roppo gli indulgi, do benvenuto a tutti quanti voi, ben trovati alla seconda edizione del percorso formativo a certamente riscossione, il webinar odierno si parlerà della gestione associata delle lettere comunali nelle unioni dei comuni, appunto come dicevo poc'anzi è una seconda edizione e che rientra nel corso l'organizzazione dell'ufficio centrale. Il webinar odierno, come avete potuto vedere, è il dottor Giacomo Spadazza dell'Unione Bassa Reggiana, a cui diamo il benvenuto, benvenuto Giacomo, ben trovato. Grazie. E vi ricordo che per gli iscritti appunto è previsto il rilascio di un open badge personale che attesta alle competenze acquisite e poi a tutti coloro che hanno seguito i moduli e hanno sostenuto anche il test di valutazione delle competenze. Chi completerà tutti i corsi è previsto un rilascio di un open badge finale. Vi ricordo che avrete la possibilità di rivedere i webinar in modalità registrata appunto, in modalità sincrona, che avrete anche modo di scaricare le slide. Avete anche la possibilità di rispondere, di porre dei quesiti al nostro relatore utilizzando appunto il box denominato domande e risposte e che comunque queste domande poste verranno poi successivamente raccolte e pubblicate con delle facche. Dopo queste informazioni di servizio non rubo altro tempo e do direttamente la linea a Giacomo Spadazza ricordandovi appunto che durante il webinar vi saranno due momenti di sondaggio. Giacomo, a te la linea. Sì, buongiorno a tutti. Ringrazio IFEL per l'opportunità che mi ha dato di partecipare attivamente a questa importante iniziativa e ringrazio anche anticipatamente tutti i colleghi che seguiranno il webinar. Oggi si tratta della seconda edizione della gestione associata alle entrate comunali nelle unioni dei comuni. È un corso che si divide in due parti. Nella prima parte cercheremo di comprendere le dinamiche della gestione delle entrate relative ai servizi conferiti in unione e analizzeremo la possibilità di gestire in modo integrato alcune fasi dell'entrata in unione, in particolare la fase di accertamento e quella di riscossione sotto l'impulso dell'ufficio tributi. Nella seconda parte del corso invece effettueremo un'analisi preventiva sulla convenienza del conferimento dell'ufficio tributi in unione. Faremo quest'analisi anche con un esempio pratico e inoltre vedremo come progettare la struttura di un ufficio associato dei tributi in unione. Veniamo alla prima parte del corso, la gestione associata dei servizi in unione. La gestione associata dei servizi in unione deve essere considerata come un'opportunità offerta ai comuni non solo per migliorare il servizio erogato ma anche per migliorare la gestione dell'entrata correlata, soprattutto in relazione alle fasi di accertamento e riscossione che sono le più delicate e come vedremo per determinati servizi spesso sono poco curate. In un primo momento l'unione potrà costituire infatti un punto di riferimento per la gestione di tutte le entrate semplicemente garantendo supporto a tutti i servizi. In una seconda fase l'unione invece potrà strutturarsi per gestire in modo uniforme ed accentrato alcune fasi delle entrate, di tutte le entrate. Quali sono le entrate comunali gestibili in forma associata? Ovviamente tutte le entrate legate ai servizi conferiti in unione. Quindi se il servizio tributi è conferito in unione avremo i tributi che sono le principali entrate dei comuni, quindi l'imulatari, l'imposto di soggiorno ed eventualmente il canone unico patrimoniale, la cui natura si è detto più volte è una natura ibrida perché mentre la parte dell'occupazione spazi ed aree pubbliche è sicuramente un'entrata di natura patrimoniale per quanto riguarda la componente pubblicitaria invece la questione non è ancora definita in modo chiaro e addirittura sappiamo che la Corte Costituzionale del 2009 aveva sancito la natura tributaria del CIMP, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari, per cui è probabile che sancirà la natura tributaria anche della componente pubblicitaria del CUP. Quindi abbiamo detto i tributi ma anche tutte le entrate patrimoniali legate ai servizi conferiti in unione, quindi ad esempio se in unione sono stati conferiti i servizi educativi anche le entrate relative alle mese scolastiche e alle rette degli asili, entrate patrimoniali che sono di diritto pubblico così come ad esempio le lampade votive o gli oneri edilizi qualora siano gestiti in unione e in generale tutti i servizi a domanda individuale. anche le entrate patrimoniali di diritto privato possono essere gestite in unione, quindi si tratta di fitti, locazioni e obbligazioni privatistiche in generale. E infine qualora il servizio di polizia locale sia stato conferito in unione, anche le sanzioni del codice della strada verranno gestite come entrate in unione. Veniamo a una questione molto delicata, quella relativa alla potestà regolamentare impositiva sulle entrate dei servizi conferiti in unione. è una questione delicata perché abbiamo due norme apparentemente in contrasto l'una con l'altra. Da una parte abbiamo l'articolo 32 del Tuel che disciplina le unioni dei comuni e afferma che l'unione ha potestà statutaria e regolamentare e inoltre alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essi affidati. Quindi da questo articolo pare di capire che per i servizi conferiti in unione l'unione ha potestà regolamentare e l'unione ha potestà impositiva, cioè in cassa riscuote le entrate relative a questi servizi. Tuttavia occorre tenere presente però l'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 97 che per chi si occupa di tributi è un punto di riferimento, una pietra miliare. cosa afferma l'articolo 52 afferma che le province e i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi. Quindi attribuisce potestà regolamentare ai comuni e poi al comma 5 lettera A afferma che l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate quali ad esempio l'unione dei comuni. Occorre fare attenzione al comma 5 lettera A perché parla di accertamento dei tributi, non di accertamento e riscossione. Viceversa nel comma 5 lettera B afferma che l'accertamento e la riscossione dei tributi possono essere affidati a diversi soggetti quali i concessionari, iscritti all'albo di cui è l'articolo 53, i soggetti europei aventi analoghi caratteristiche quelle dei concessionari, le società miste e le società in house. A questi soggetti si può affidare accertamento e riscossione, mentre per quanto riguarda le forme associate si parla solo di accertamento. Quindi vediamo due articoli apparentemente contrastanti. Quindi per definire la potestà regolamentare impositiva in relazione ai servizi conferiti in unione occorrerà guardare a ciascun servizio. Guardiamo ad esempio per i tributi. Per i tributi la forza dell'articolo 52 ci porta a ritenere che il comune mantiene la potestà regolamentare impositiva. Ciò è confermato anche dalle leggi che disciplinano i singoli tributi, ad esempio gli imulatari, che attribuiscono potestà regolamentare ai comuni, così come la potestà di deliberare le aliquote e le tariffe imulatari rispetto ai consigli comunali. L'unico dubbio potrebbe venire in relazione all'imposta di soggiorno. Perché? Perché l'imposta di soggiorno disciplinata dal decreto legislativo 23 del 2011 al comma 1 dell'articolo 4 afferma che l'imposta di soggiorno può essere istituita dai comuni capoluogo di provincia, dai comuni turistici e dalle unioni dei comuni. Quindi è l'unione che può istituire l'imposta di soggiorno. Non solo. Nello stesso comma 1 si stabilisce che le entrate dell'imposta di soggiorno hanno una destinazione vincolata, per cui devono finanziare gli interventi legati alla promozione del turismo, che è tra l'altro una funzione, quella della promozione del turismo, il cosiddetto marketing territoriale, che normalmente viene esercitata dalle unioni. Per cui per l'imposta di soggiorno potrebbe esserci un dubbio. Tuttavia, se andiamo a rileggere l'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997, dobbiamo anche in relazione all'imposta di soggiorno affermare che l'imposta di soggiorno, nonostante sia istituita magari dalle unioni, deve essere regolamentata e disciplinate. Le tariffe devono essere approvate dal comune, anche se, ripeto, per l'imposta di soggiorno probabilmente l'intenzione del legislatore non era questa, ma rimane comunque il vincolo dell'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997. Quindi, dopo questo breve escursus, concludiamo che per tutti i tributi il comune mantiene la potestà regolamentare in positiva, per cui è il comune che approva il proprio regolamento, magari se il servizio ai tributi è conferito in unione approva un regolamento uguale a quello di tutti gli altri comuni, però la potestà regolamentare rimane in capo al comune, così come la potestà di approvare le aliquote e le tariffe. È il comune che riscuote le proprie entrate tributarie, anche qualora i servizi di tributi si sono conferiti in unione, e il comune cosa farà? Finanzierà all'unione la propria quota di costo dell'ufficio tributi conferito. All'unione cosa compete? All'unione compete, quindi, per quanto riguarda i tributi, solo la gestione amministrativa, quindi l'organizzazione del lavoro e del personale, tutte le attività legate alla gestione delle fasi delle entrate, quindi l'attività propedeutica legata alla riscossione ordinaria, l'attività di accertamento, la gestione della riscossione coattiva e infine la gestione del contenzioso. Quindi abbiamo visto questa particolarità per quanto riguarda i tributi, per cui l'unione ha solo la gestione amministrativa, mentre potestà regolamentare e impositiva rimangono in capo ai comuni. L'ho sottolineato più volte perché il servizio tributi è un'eccezione. In effetti, per tutti gli altri servizi conferiti in unione, è l'unione che, in base all'articolo 32 del Tuel, riscuote direttamente le entrate correlate. In effetti, le unioni sono enti locali che vivono principalmente di finanza derivata, riscuotono le entrate dei servizi conferiti e ricevono dei trasferimenti dai comuni. Cosa sono questi trasferimenti? Sono i saldi, quasi sempre negativi, a copertura del costo del servizio. Faccio un esempio. Se i servizi educativi sono conferiti in unione, le rette scolastiche vengono incassate, riscosse direttamente dall'unione. Tuttavia, le rette scolastiche non coprono interamente il servizio. Il saldo a copertura del servizio verrà chiesto ai comuni. Quindi i comuni finanzieranno questi saldi all'unione e in base a cosa l'unione ripartirà questi saldi tra i vari comuni? In base ai centri di costo. Quindi nella contabilità dell'unione c'erano dei centri di costo per ogni comune. In sostanza, quindi con il conferimento dei vari servizi, tutte le spese e le entrate di riferimento transitano sul bilancio dell'unione, eccezione fatta, abbiamo già detto, per i tributi. E saranno ripartite sui comuni in base ai centri di costo. Mentre nel bilancio del singolo comune è contabilizzata unicamente la quota di contribuzione a pareggio a saldo dei servizi conferiti, che normalmente è un saldo negativo. Quindi questo vale per quasi tutte le entrate conferite in unione, ad eccezione, abbiamo detto, dei tributi. Vale anche, ad esempio, per le sanzioni al codice della strada. Se il servizio della polizia locale è conferito in unione, le sanzioni al codice della strada sono riscosse dall'unione. Poi i meccanismi di regolazione tra unione e comuni, per quanto riguarda la polizia locale, sono più complicati. Perché? Perché le sanzioni del codice della strada sono incamerate dall'unione, ma queste entrate, questi sanzioni, sono in parte vincolate ad attività quali la manutenzione delle strade, che spesso rimane in capo ai comuni. Per cui sono meccanismi complessi, ci sono diverse metodologie di regolazione per quanto riguarda il servizio di polizia locale. Tuttavia, anche in questo caso, però, è l'unione che riscuote. Dopo aver visto la dinamica appunto delle entrate, della gestione delle entrate per i servizi conferiti in unione, vediamo come gestire queste entrate comunali in unione. La prima domanda che viene spontanea è, è possibile creare un ufficio unico, unionale, che gestisca tutte le fasi delle entrate dei servizi conferiti? La risposta, ovviamente, è no. Perché? Innanzitutto, perché le entrate di ciascun servizio hanno le proprie peculiarità. Sono legate indissolubilmente a quel servizio. inoltre, cioè i presupposti dell'entrata sono legati alla tipologia del servizio e vediamo che ci sono servizi diversi. Voi pensate, ad esempio, a un'occupazione degli spazi a repubbliche rispetto a, ad esempio, a una messa scolastica. I presupposti sono particolari, per cui non può esserci un ufficio unico che gestisca tutte le fasi dell'entrata. Inoltre, è una questione anche di responsabilità. Perché? Perché l'individuazione del responsabile dell'entrata avviene con il PEG che assegna i relativi capitoli di bilancio e quindi affida la gestione delle entrate al dirigente o all'incaricato di posizione organizzativa, il quale è responsabile anche ai fini del danno erariale. Quindi non è possibile avere un ufficio unico che gestisca tutte le fasi di tutte le entrate. Tuttavia, la presenza di uffici unionali dotati di competenze in materia di accertamento e riscossione può contribuire a sopperire le carenze organizzative e anche a volte di conoscenze in materia di accertamento e riscossione che abbiamo in alcuni servizi. Soprattutto per quanto riguarda le entrate patrimoniali dei servizi a domanda individuale. Voi sapete che soprattutto nei piccoli comuni questi uffici sono scarsamente orientati alla gestione dell'accertamento e della riscossione, a volte anche semplicemente perché sono in pochia, ma poi non sono dotati di quelle competenze specifiche necessarie per svolgere in modo adeguato l'accertamento e la riscossione. Quindi nella gestione delle entrate in unione un ruolo centrale lo avrà l'ufficio che maggiormente si occupa di accertamento e riscossione, cioè l'ufficio tributi. La centralità dell'ufficio tributi deve essere intesa sotto un duplice aspetto. Innanzitutto i tributi sappiamo che costituiscono le principali entrate per i comuni, per cui è opportuno valutare la possibilità di gestire il servizio tributi in unione qualora ci sia la convenienza e i presupposti. Inoltre all'ufficio tributi sono presenti professionalità dotate di competenze specifiche anche in materia di accertamento e riscossione, competenze che sono applicabili anche agli altri servizi, quindi sono fondamentali anche per la gestione dei servizi e domande individuali. Quindi abbiamo visto la centralità dell'ufficio tributi. È possibile, quindi abbiamo detto non è possibile costituire un ufficio unico che gestisca tutte le fasi delle entrate, però è possibile tramite l'impulso dell'ufficio tributi, che è l'ufficio che ha maggiore competenza in materia di accertamento e riscossione, è possibile creare dei modelli gestionali integrati delle entrate in unione che significa strutturare un sistema di interazione tra gli uffici e metodologie condivise volto a migliorare la gestione di queste fasi e certamente riscossione di tutte le entrate. Non esiste un modello gestionale integrato unico, ci sono diversi modelli gestionali a seconda del grado di integrazione che si intende realizzare. Ad un primo livello, cioè ad un livello base, si possono introdurre semplicemente delle forme di supporto ai vari uffici unionali, ma anche ad esempio agli uffici comunali per le entrate che rimangono di competenza dei comuni in quanto non conferite in unione. ad un secondo livello è possibile uniformare le modalità della gestione in relazione solo però alla fase del coattivo e procedere con un affidamento unico, quindi esternalizzazione. Il terzo livello che è quello con il quale si raggiunge il massimo grado di integrazione si ha sempre in relazione alla fase della riscossione coattiva e consiste nel costituire un ufficio unico di recupero crediti che gestisce direttamente il recupero attivo di tutte le entrate unionali e eventualmente se riesce anche comunali, cioè un ufficio che fa la riscossione diretta in proprio. Vediamo meglio il modello gestionale di livello 1. Abbiamo detto che al livello 1 si offre soltanto, in particolare l'ufficio tributi che ha più competenze, offre attività di supporto agli altri uffici in materia di accertamento e riscossione coattiva, il che significa organizzare incontri formativi con i responsabili degli uffici in materia di gestione delle entrate, fornire agli uffici i modelli per l'accertamento patrimoniale esecutivo o l'ingiunzione di pagamento per la polizia locale, perché sapete che per quanto riguarda le sanzioni del codice della strada non si applica l'accertamento patrimoniale esecutivo, ma si continua a applicare l'ingiunzione di cui ha reggio decreto 639 del 1910, quindi fornire i modelli e supportarli, quindi aiutandoli nelle prime stesure, nei primi invi e inoltre affiancare tutti i servizi in merito alle scelte sulla riscossione coattiva, quindi ad esempio predisporre i capitolati di gara. Questo livello 1, quindi il supporto, sembra una cosa scontata, ma in effetti non lo è. Purtroppo poco tempo fa ho capito che alcuni servizi a domanda individuale non erano nemmeno a conoscenza del fatto che si può attivare l'accertamento tramite l'accertamento patrimoniale esecutivo, per cui l'attività di formazione e di supporto è fondamentale, soprattutto nei piccoli comuni che sono meno strutturati. Vediamo invece il modello gestionale del livello immediatamente superiore, livello 2. L'ufficio Tributi, per quanto riguarda l'accertamento, continua a garantire esclusivamente supporto. Per la fase di accertamento, a mio avviso, non è possibile accentrarlo presso un unico ufficio, perché come vi ho detto prima, anche in fase di accertamento occorre tenere presente che ogni entrata è legata alle sue peculiarità, ai suoi presupposti particolari. Poi pensate a un accertamento patrimoniale COSAP che dovrà indicare i presupposti dell'occupazione, i metri quadri, la destinazione, eccetera, eccetera, rispetto ad esempio ad un accertamento per una retta scolastica non pagato, i presupposti sono totalmente diversi e li conosce solo in maniera dettagliata e precisa l'ufficio che gestisce quel servizio. Per cui, per quanto riguarda l'accertamento, anche a livello 2 solo supporto da parte dell'ufficio Tributi o comunque di chi ha conoscenze e competenze in materia di accertamento e riscossione. Ma a livello 2, per quanto riguarda la riscossione coattiva, procediamo ad uniformare la fase della riscossione coattiva esternalizzando la gestione. Come fare? Innanzitutto occorre mettersi a posto per quanto riguarda gli atti, quindi approvare un regolamento per la riscossione coattiva, valido per tutte le entrate dell'Unione, regolamento uguale a quello di tutti i comuni aderenti all'Unione, quindi regolamento Unione, regolamenti comuni identici. Si può predisporre poi, tramite la centrale unica di committenza dell'Unione, si può predisporre una gara per l'affidamento e la gestione della riscossione coattiva di tutte le entrate unionali, ma anche di quelle comunali. Quindi esternalizzazione in concessione o per lo svolgimento di attività di supporto. Voi sapete che anche per l'attività di supporto i soggetti affidatari dovranno essere iscritti, devono essere iscritti nella sezione speciale dell'albo di cui è l'articolo 53 del decreto legislativo 446 del 97. Quindi in questo modo si potranno anche realizzare delle economie di spese, quindi spuntare degli agi inferiori visto le dimensioni della gara. Abbiamo detto affidamento in concessione o tramite attività di supporto. Quale scelta operare? Occorre valutare la situazione di ogni comune prima di fare questa scelta. Quindi ogni comune, ogni unione dovrà valutare la propria situazione particolare. In questa slide segnalo alcuni elementi da tenere in considerazione quando si vuole scegliere se affidare in concessione o affidare semplicemente l'attività di supporto. Innanzitutto teniamo presenti le azioni cauterari, i fermi amministrativi e le ipoteche che in caso di affidamento in concessione saranno iscritti nei pubblici registri a nome del concessionario. Quindi in conservatoria l'ipoteca sarà iscritta a nome del concessionario. Viceversa in caso di affidamento di attività di supporto le azioni cauterari saranno iscritte nei pubblici registri a nome dell'ente impositore, quindi dell'unione dei comuni a seconda dell'entrata quindi questo a mio avviso è un punto a favore dell'attività di supporto. Perché? Perché voi pensate al termine dell'affidamento in concessione, cioè dopo la cosiddetta fase di divorzio, le azioni cauterari continueranno ad essere iscritte a nome del concessionario e il comune perderà un po' il controllo di queste azioni. Non solo, noi non sappiamo qual è la fine che farà il concessionario e se il concessionario poi fallisse alcuni concessionari sono falliti. Quale sarebbe il destino delle nostre azioni cautelari? Quindi a mio avviso questo è un punto a favore dell'attività di supporto. Ma occorre valutare anche ad esempio la gestione del contenzioso che in caso di affidamento in concessione rimane in capo ai concessionari e in caso di attività di supporto rimane in capo agli enti impositori, quindi all'unione dei comuni. Quindi se da un lato l'affidamento in concessione ha il vantaggio per i comuni di alleggerire i carichi di lavoro perché il contenzioso è in carico al concessionario, dall'altro però in caso di attività di supporto il comune pur avendo maggiori carichi di lavoro potrà gestire direttamente e quindi controllare meglio la fase del contenzioso. Per quanto riguarda il front office ovviamente in caso di concessione non ci saranno aumenti di carichi di lavoro perché tutto in capo è concessionario mentre invece in caso di attività di supporto per i comuni e l'unione ci sarà un aumento dei carichi di lavoro per attività di front office perché anche se il soggetto affidatario predispone a tutti gli atti, gli atti escono a nome del comune e dell'unione per cui chi li riceve va in comune o in unione. E infine il funzionario della riscossione che in caso di attività di affidamento in concessione è nominato direttamente dal concessionario tra i suoi dipendenti quindi il concessionario può agire in maniera molto rapida, molto agile con il proprio funzionario della riscossione. Mentre in caso di attività di supporto il funzionario di riscossione è nominato dal dirigente dell'ente impositore tra i suoi dipendenti per cui c'è una piccola frattura tra chi fa gli atti che alla fine è sempre il soggetto affidatario dell'attività di supporto e invece quella che è la funzione del funzionario della riscossione che rimane in capo ai comuni. Occorrerebbe in questo caso sviluppare dei rapporti molto stretti con il concessionario. Detto ciò questo elemento è da tenere in considerazione ma teniamo anche presente che le funzioni esclusive del funzionario della riscossione sono veramente poche, cioè quella dei pignoramenti immobiliari, dei pignoramenti immobiliari e nell'eseguire i pubblici incanti. Per quanto riguarda ad esempio il pignoramento crediti presso terzi può essere esercitato anche direttamente dal funzionario responsabile dell'entrata del comune dell'unione senza la necessità del funzionario della riscossione in virtù dell'articolo 72 bis del DPR 602 del 73. A proposito del funzionario della riscossione e del servizio tributi conferiti in unione veniamo ad una situazione un po' delicata nel senso che abbiamo detto che in caso di servizio dei tributi conferiti in unione la potestà impositiva e regolamentare rimane in capo ai comuni. Quindi mi chiedo se il funzionario della riscossione nominato tra i dipendenti dell'ufficio tributi associato che però sono dipendenti dell'unione non dei comuni, il funzionario della riscossione nominato tra i dipendenti dell'unione può esercitare le proprie funzioni per riscuotere i crediti tributari dei comuni e se stiamo al tenore letterale del comma 793 no perché il funzionario della riscossione deve essere nominato tra i dipendenti dell'ente e in caso di riscossione dei tributi chi riscuote è sempre il comune. Quindi paradossalmente io che sono responsabile dei tributi e funzionario della riscossione ma sono dipendenti dell'unione potrei esercitare le funzioni di funzionario della riscossione per tutte le entrate legate ai servizi dell'unione ma non per i tributi perché la riscossione dei tributi rimane in capo ai comuni. Perciò qual è il consiglio che do? Il consiglio che do è quello di fare il corso per funzionario della riscossione e quindi prendere l'abilitazione a dipendenti dell'unione che potranno esercitare le funzioni per le entrate riscosse dall'unione e a dipendenti del comune che potranno esercitare le funzioni in relazione alle entrate la cui riscossione è in capo al comune. Veniamo all'ultimo modello gestionale, il modello gestionale integrato di livello 3 che abbiamo detto è quello che garantisce la massima integrazione della gestione associata delle entrate. Anche per il modello 3 per quanto riguarda l'accertamento occorre garantire soltanto supporto per i motivi che vi ho detto prima cioè che l'accertamento è legato alla peculiarità dell'entrata mentre per quanto riguarda la fase coattiva si procederà a costituire un vero e proprio ufficio unico di recupero crediti che fa direttamente la riscossione coattiva. La costituzione di un ufficio recupero crediti è un'operazione complessa e deve avvenire gradualmente. Innanzitutto abbiamo detto occorrerà approvare un regolamento per la riscossione coattiva per l'unione come per il livello 2 uguale al regolamento della riscossione coattiva dei comuni aderenti. Occorre tenere presente che un ufficio di recupero crediti che gestisca tutta la fase coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali dovrebbe gestire carichi di lavoro notevoli per cui è necessario un investimento importante in termini di dotazione organica del personale. Sappiamo che questo spesso è un problema, occorrerebbe sensibilizzare gli amministratori ma non è facile perché tutti i servizi hanno delle dotazioni di personale scarse e spesso si lamentano. Occorre poi considerare che per creare, abbiamo detto, una struttura, che la creazione di un ufficio unico dei tributi deve avvenire gradualmente perché per creare una struttura di questo tipo occorrerà prima aver maturato un'esperienza nella gestione del coattivo, in particolare è auspicabile che sia l'ufficio tributi che abbia già sperimentato e collaudato la riscossione diretta delle entrate tributarie. Quindi prima di arrivare all'ufficio unico di recupero crediti occorre che un ufficio, in particolare l'ufficio tributi, abbia già sperimentato l'attività di riscossione coattiva diretta. Occorrerà poi dotarsi di un software specifico per la riscossione coattiva che i comuni, cioè la stragrande maggioranza dei comuni che non hanno gestito mai direttamente la fase coattiva, non hanno. È un software gestionale che non solo dovrà essere in grado di produrre gli atti della riscossione coattiva, i preavvisi di ipoteca, i preavvisi di iscrizione di fermo, pignoramento credito presso terti, ma anche un software che aggreghi tutte le banche dati necessarie per l'ufficio unico ai fini di individuare quali azioni intraprendere. Quindi banche dati che vanno da Seattle a quelle della Cipra per gli automezzi in motoveicoli, quindi un software nuovo. Sarà inoltre fondamentale definire i rapporti e le modalità di comunicazione tra l'ufficio recupero crediti e tutti gli altri uffici, quindi trasmissione dei carichi ma anche rendicontazione. occorrerà fare opportune valutazione sulla gestione del contenzioso, contenzioso che sarà non solo di natura tributaria ma sarà anche di natura patrimoniale, quindi davanti al giudice, alle corti di giustizia tributarie ma anche davanti al giudice ordinario per i crediti patrimoniali, per cui insomma occorre fare delle valutazioni sulla gestione del contenzioso e infine come dicevo ogni ente dovrà nominare uno o più funzionari della riscossione. termina qui la prima parte, a questo punto io lancerei il sondaggio, chiedo aiuto a Ifel, Alessio? Sì, eccoci, eccoci, eccoci Giacomo, sto tanto caricando nel frattempo, vediamo di lanciare il primo sondaggio, il primo sondaggio che ci dice sostanzialmente il quesito che tu ci hai posto è come viene gestita la riscossione coattiva delle entrate patrimoniali del vostro ente, ruolo a concessione non nazionale, affidamento in concessione e appalto di servizi a soggetto iscritto all'albo, discussione diretta effettuale e improprio, non so, dipende dal servizio, ecco le possibilità che Giacomo ha inserito nel sondaggio odierno. Quindi possiamo vedere sostanzialmente che la tendenza è a rispondere sulla prima risposta, quella ruolo al concessionario nazionale. Giacomo, un commento su questo? La prevalenza del ruolo concessionario nazionale è una risposta che purtroppo non mi soddisfa pienamente, anche se so che benissimo che la realtà è questa, perché? Perché per le entrate patrimoniali spesso si tratta di crediti di modesta entità e sappiamo benissimo che in relazione ai crediti di modesta entità le percentuali di riscossioni del concessionario nazionale non sono del tutto soddisfacenti. Chi ha invece effettuato la riscossione tramite un concessionario in appalto di servizi o addirittura tramite la riscossione diretta ha raggiunto percentuali di riscossioni maggiori. Poi è vero che il ruolo al concessionario sembra da un certo punto di vista più comodo, nel senso che si fa ruolo e poi tutto in carico al concessionario nazionale. Tuttavia occorre fare delle valutazioni perché se andate a vedere le statistiche, i dati di riscossione sugli importi di modesta entità, il concessionario nazionale veramente per le entrate soprattutto dei comuni è molto bassa, quindi occorre fare una valutazione, quindi valutare la possibilità di affidare in concessione o in appalto di servizi qualora non ci siano le forze per fare la riscossione diretta e in proprio. Tenete presente poi anche che oltre alle basse percentuali di riscossione ci sono anche tutte le sanatorie, le sanatorie, gli stralci che anno dopo anno voi sapete che caratterizzano il concessionario nazionale, per cui invito a fare una riflessione su questo. Bene, nel terminale il sondaggio faccio presente pure che appunto molti hanno risposto a dipendere dal servizio. Ok, sì. Bene, terminale il sondaggio e lascio per la seconda parte. Prego. Grazie. Sì, a questo punto possiamo iniziare la seconda parte che abbiamo detto. Abbiamo visto la gestione integrata delle entrate nella prima parte abbiamo visto che l'impulso, diciamo, l'iniziativa per questa gestione integrata lo dà l'ufficio tributi, che è quello che ha maggiori competenti in materia di gestione delle entrate e soprattutto nelle fasi di accertamento e riscossione. Per cui vedremo nella seconda parte come valutare la possibilità di conferire l'ufficio tributi in unione e poi vedremo come strutturare l'ufficio tributi in unione. Quali sono le finalità e gli obiettivi della gestione associata dei tributi? Innanzitutto realizzare un modello organizzativo più utile e più efficiente. Sicuramente un ufficio tributi in unione è più flessibile perché è comunque dotato di maggior numero di personale per cui è più flessibile nell'organizzazione. Voi pensate a tanti comuni piccoli che hanno un solo dipendente, non c'è margine per effettuare dei cambiamenti. Quindi questa è la prima finalità. Ma poi anche uniformare i regolamenti comunali e la modulistica. Questa è importante. Voi pensate che conosco tante realtà in cui ci sono dei piccoli comuni confinanti che hanno dei regolamenti diversi. Ad esempio alcune fattispecie sono interpretate in modo diverso. Questo non è utile né per il contribuente né per i CAF. Mentre avere un territorio di una certa dimensione in cui sono uniformati i regolamenti e la modulistica è sicuramente un vantaggio. Ma poi anche individuare e replicare su tutti i comuni le best practice. Quindi se c'è un qualche comune che ha delle modalità organizzative, ad esempio per l'accertamento, vincenti, è bene replicarle sugli altri comuni. Poi condividere le professionalità. Anche questo è importante. Ci sono delle figure, io qui ho citato la figura del tecnico per i tributi, che sono tanto rare quanto prefiose. Il tecnico per i tributi è fondamentale perché i tributi comunali, che sono tributi essenzialmente legati agli immobili, necessitano in molti casi di conoscenze di tipo tecnico. Voi pensate ad esempio alle aree fabbricabili. Ma conoscenze di tipo tecnico che non sono peculiari solo dell'ufficio tecnico. Perché? Perché l'ufficio tecnico ha spesso soltanto la concezione urbanistica. Mentre la figura del tecnico per i tributi è una figura, dicevo, così importante perché oltre alle conoscenze di tipo urbanistico, associa anche le conoscenze di tipo tributario, che spesso non collimano. Per cui è una figura importantissima. Altro obiettivo è quello di organizzare incontri formativi ai momenti di confronto, quindi consentire un aggiornamento costante dal punto di vista normativo e individuare linee di indirizzo condivise su più comuni, quindi in una realtà più grande. Poi ovviamente uno degli obiettivi principali è il contrasto all'evasione, che ha la duplice finalità di recupero risorse, ma anche salvaguardia la base imponibile. Un'imponente attività di accertamento imu allarga la base imponibile, quindi ti garantisce maggior gettico per il futuro. Poi realizzare anche l'economia di scala, ecco, come corollario non è una delle finalità principali, però consente di realizzare economia di scala, soprattutto nei software, nei servizi, eccetera. E infine la gestione associata del contenzioso, che per i comuni molto piccoli spesso è un problema, perché non sono organizzati. Magari ricevono pochi ricorsi e quando lo ricevono non sanno come muoversi. Per conferire, per valutare il conferimento dell'ufficio tributi in unione, occorre fare un'analisi preventiva. Analisi preventiva, appunto, è circa la convenienza della costituzione dell'ufficio tributi associato. L'analisi preventiva comincia con un questionario, un questionario che è rivolto a tutti gli uffici tributi dei comuni che stanno valutando la gestione associata. Il questionario ha la funzione di raccogliere tutte le informazioni relative alla gestione degli uffici tributi nei vari comuni, al fine di consentire poi una valutazione tecnica ed economica sulla convenienza della gestione associata. La valutazione tecnica dovrà evidenziare se sussistono ostacoli di tipo strutturale oppure organizzativo. Un ostacolo strutturale, ad esempio, è un'eccessiva dispersione territoriale fra i comuni, per cui diventa difficile anche semplicemente uno spostamento da un comune all'altro. Oppure anche, dal punto di vista organizzativo, la presenza di comuni eccessivamente piccoli che non hanno nemmeno l'ufficio tributi perché se sono talmente piccoli esternalizzano tutto. La valutazione economica, invece, è un'operazione un po' più complessa perché oltre all'analisi della spesa degli uffici tributi di ciascun comune, occorre anche prevedere le possibili maggiori entrate derivanti da un più efficiente contrasto all'evasione. Quindi si tratta di una stima e, come tutte le stime, è caratterizzata da un certo grado di incertezza. Come va effettuata? Va effettuata tenendo conto dei dati storici di recupero di ciascun comune, tenete presente gli ultimi 4-5 anni, ma anche tenendo conto di quelli che sono i margini di miglioramento che ci danno le stime relative al tax gap, cioè all'evasione IMU, ad esempio IMU-TARI, stimata. Voi pensate che i dati di tax gap IMU sono molto elevati. non guardiamo la comunicazione del Ministero dello scorso anno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che affermava un tax gap IMU prudenziale del 10%, perché quel prudenziale sicuramente secondo me significa sottostimato. Io ho visto molti studi, alcuni presentati anche alla Camera dei Diputati, che attestano un tax gap IMU intorno al 25%, con minimi del 13%, se non ricordo mai la Val d'Aosta, ma regioni che arrivavano fin quasi al 40% di evasione presunta. Per cui occorre tenere presente anche i margini di miglioramento nel recupero. Torniamo al nostro questionario. Quali informazioni deve far emergere il questionario? I modelli di gestione adottati dai comuni per i singoli tributi, quindi gestione diretta o esternalizzazione, il personale impiegato, quindi addetto all'ufficio tributi e le relative mansioni, la comunicazione di tutti i costi in maniera analitica, quindi dai costi del personale all'esternalizzazione, software, eccetera, eccetera, ma anche i volumi delle attività, quindi dal numero di contribuenti, numero di dichiarazioni, numero importi o versamenti spontanei, volumi dell'attività accertativa, quindi numero importi e accertamenti degli ultimi anni, 4-5 numero dei ricorsi ricevuti e gli importi delle riscossioni, sia da accertamento che da coattivo. Quindi il questionario chiede una mole importante di dati che dovranno poi essere valutati da chi ha fatto e di chi ha predisposto il questionario. I dati comunicati dai comuni dovranno però essere il più possibile omogenei, se non sono omogenei non sono confrontabili, per cui chi ha predisposto il questionario dovrà eventualmente adattare alcuni di questi dati. Nell'esempio pratico che vediamo fra poco vedremo anche un esempio di adattamento dei dati, come fare ad adattare questi dati. Quando i dati saranno confrontabili potranno dare delle indicazioni sulla convenienza tecnica ed economica del conferimento dell'ufficio tributi in unione. Veniamo all'esempio pratico che è un esempio legato proprio al questionario che era stato inviato ai comuni che costituiscono alla mia unione prima del conferimento del servizio tributi in unione. Quindi le schede che vedremo sono tre, quindi non ci sono tutti i dati che vi ho detto, ma ci sono solo tre schede e servono come esempio. Come esempio per far capire come interpretare i dati come adattarli per renderli omogenei e poi come trarre delle conclusioni. Vediamo la prima scheda. La prima scheda del questionario riguarda il personale e i costi. Vedete qua ci sono gli otto comuni che ora costituiscono alla mia unione i dati relativi al personale e alle spese. Vedete che i comuni A, B e C che erano tra piccoli comuni avevano una sola persona dedicata ai tributi che gestiva direttamente tutta la Tari e tutta l'Imu. Quindi gestione diretta Tari dall'aggiornamento banca dati all'invio degli avvisi di pagamento, agli accertamenti e in più la gestione Imu. Quindi insomma piccoli comuni ma il dipendente impiegato in questi tre comuni A, B e C aveva tanto lavoro. Poi veniamo ai comuni E, F e G che vedete hanno come numero di personale dedicato, non hanno un numero intero. Perché? Perché questi tre comuni avevano affidato la gestione amministrativa della tariffa di igiene ambientale, poi della Tari e poi della Tari direttamente al gestore, il quale aveva messo a disposizione due dipendenti per la gestione Tari di questi tre comuni. Quindi l'apporto di questi due dipendenti è stato proporzionato in base al criterio della popolazione. Quindi dei due dipendenti il comune F, che è il comune più grande, ne avrà uno 0,9, lo vedete scritto in verde. Il comune E avrà uno 0,6 e il comune G uno 0,5. Poi vedete che il comune F ha anche in blu uno 0,7. Si tratta di un dipendente a orario ridotto, 25 ore invece che le 36 classiche e quindi è stato adattato il dato. Da questa prima scheda vediamo subito che il comune F è il comune che ha investito di più sull'ufficio attributi. Lo vediamo anche dalla spesa, perché nella spesa è quello che spende di più per l'ufficio attributi, perché? Perché ha investito di più. Veniamo alla seconda scheda, riguarda gli accertamenti IC e IMU. Come vedete il comune F, che è quello che ha investito più negli uffici attributi, è anche quello che accerta di più sia in termini numerici che in termini di importi di accertamento. Vediamo anche una buona attività di accertamento da parte del comune B, nonostante, se vi ricordate, era uno di quei comuni che aveva un solo dipendente. Viceversa, vediamo che ci sono dei comuni, tipo il comune D e il comune E, che hanno delle grosse carenze dal lato di accertamento, perché praticamente non inviavano accertamenti. I pochissimi accertamenti che hanno inviato erano relativi a, erano funzionali all'insimulazione, al passivo fallimentare, per cui erano accertamenti da cui probabilità di discussione è pressoché uguale a zero. Per cui comuni D e D, grosse carenze per quanto riguarda gli accertamenti. Vediamo la terza scheda di questionario che riguarda le riscossioni e anche qui vedete che il comune F è quello che riscuote di più, sia in fase di accertamento che in termini di riscossioni da coattivo. Ma non solo, il comune F è anche l'unico che ha abbandonato il concessionario nazionale, allora Equitalia, per riscuotere direttamente con il supporto di un concessionario. Quindi un concessionario che però agisce con un'attività di supporto, quindi gli atti uscivano tutti a nome del comune F. Viste queste tre schede abbiamo già fatto delle importanti considerazioni, arriviamo alla conclusione di questo esempio che come vi ho detto riguarda i comuni che poi sono diventati comuni della mia unione, per quanto riguarda l'ufficio tributi. Le conclusioni dell'analisi preventiva cosa ci portano a dire? Innanzitutto che nel nostro caso l'unione dei comuni era già stata istituita anche se il servizio tributi non era ancora stato conferito, che il gestore del servizio rifiuti è lo stesso per tutti e otto i comuni, quindi un importante elemento di condivisione soprattutto in riferimento ai tributi. I comuni sono confinanti gli uni con gli altri, per tanto è possibile individuare un ufficio centrale, back office, non troppo distante da ciascun comune, quindi questi sono presupposti che portano a dire che sarebbe conveniente l'ufficio tributi. Ma poi vediamo anche che dalle schede di valutazione economica è presente un comune capofila che celle nella gestione dei tributi, ricordate il comune F. Abbiamo visto che alcuni comuni presentano delle evidenti carenze nella gestione dei tributi, sia in fase di accertamento, sia in fase di riscossione e inoltre si rileva l'esigenza di cambiare linea sulla riscossione coattiva abbandonando il concessionario nazionale ex equitalia. Quindi ci sono anche i presupposti economici, la convenienza economica per il conferimento del servizio tributi in Unione. Quindi queste considerazioni ci hanno portato a dire che era conveniente la gestione tributi in Unione. A questo punto terminata l'analisi preventiva sul conferimento dell'ufficio tributi in Unione, e lancerei il secondo sondaggio. Chiedo aiuto ad Alessio. Sì, eccoci. Grazie. Possiamo per lanciare. Qualche secondo. Eccolo qua. Spero che lo vediate. Il secondo sondaggio dice, insomma, il quesito che Giacomo pone è questo, nell'analisi economica sulla convenienza della gestione associata dei tributi, quale di questi fattori ritenete possa essere più determinante? Le risposte, come sempre, sono quattro. La possibilità di ripartire le spese di personale, la previsione di maggiori entrate realizzabili da recupero dell'evasione, le economie di spesa derivanti dalla possibilità di centralizzare gli acquisti, ed infine i contributi regionali alle unioni per il conferimento di funzioni. Ecco, intanto avete cominciato a dare una preferenza e stiamo vedendo sostanzialmente che qui quasi interamente stanno prediligendo la seconda risposta, quindi la previsione di maggiori entrate realizzabili da recupero dell'evasione. Tu cosa ne pensi? Perfetto, mi fa piacere perché è comunque il fattore che incide in maniera più determinante. Sicuramente ci possono essere anche i contributi, le economie di spesa, ma le maggiori entrate realizzabili da recupero dell'evasione incidono maggiormente. Voi pensate ad esempio che noi da quando abbiamo costituito l'unione, a livello di tributi abbiamo più che raddoppiato certamente riscossioni rispetto a quello che veniva fatto singolarmente, la somma di quello che veniva fatto singolarmente dalla gestione dei comuni. per cui tenendo conto anche che i margini di recupero sono elevati è sicuramente il fattore più importante. Bene, diamo per concluso anche questo sondaggio con la conferma appunto della risposta al quesito numero 2 che ha ottenuto l'83%. Bene, andiamo verso la fine, quindi l'ultimo quindici minuti. Giacomo, a te. Perfetto. Quindi abbiamo una volta che è stata constatata la convenienza del conferimento dell'ufficio tributi in unione occorrerà strutturarlo, questo ufficio tributi. è lo studio di fattibilità che progetterà la struttura dell'ufficio tributi. Quindi con lo studio di fattibilità si strutturerà il progetto analitico dell'ufficio tributi definendone tutti i suoi elementi essenziali. Quindi con lo studio di fattibilità verranno definite la dotazione organica, cioè il personale i costi e i criteri di riparto delle spese l'organizzazione logistica l'organizzazione del lavoro front office e back office dotazione informatica e rendicontazione. Quindi lo studio di fattibilità dovrà definire questi che sono gli elementi essenziali per l'organizzazione dell'ufficio tributi. Veniamo al personale. Nella fase di prima costituzione del servizio associato il personale potrà essere semplicemente comandato all'unione quindi i dipendenti rimarranno dipendenti dei comuni e solo in una seconda fase quando sarà collaudato l'ufficio tributi in unione il personale verrà conferito in unione per cui i dipendenti diventeranno tutti gli effetti dipendenti dell'unione. Questo passaggio per esperienza so che può creare malumori, incertezze e timori in una parte dei dipendenti. Quali sono questi timori? Quello di essere, ad esempio, assegnato a mansioni differenti rispetto a quelle svolte abitualmente l'insofferenza a spostarsi presso altre sedi di lavoro spesso i dipendenti temono di essere sballottati da un comune all'altro mentre non è così anche in unione poi vedremo che ogni dipendente viene assegnato ad un comune ma anche la luttanza, la paura del confronto con i nuovi colleghi provenienti da altri comuni in generale si tratta di tutte di problematiche legate all'avversione al cambiamento avversione al cambiamento che è più radicato nei dipendenti che da tanto tempo svolgono il lavoro allo stesso modo nello stesso posto ovviamente sarà un po' meno radicato nei dipendenti appena assunti i giovani più aperti diciamo a nuove soluzioni come poi ci sono delle eccezioni questo comunque statisticamente è così ecco insomma per superare queste problematiche queste eventuali problematiche occorre motivare i dipendenti quindi far capire che il passaggio all'unione non comporta un aggravio di carichi di lavoro e neanche dei cambiamenti radicali nelle mansioni svolte fino ad allora ecco inoltre l'unione anzi l'unione offre maggiori possibilità di crescita professionale e consente anche di sviluppare nuove competenze grazie alla comunicazione e alla collaborazione con i colleghi e alla presenza di un funzionario responsabile che fa formazione e aggiornamento la presenza di un ufficio associato tra l'altro deve infondere fiducia e sicurezza nei dipendenti che potranno contare sempre sul supporto degli altri noi l'abbiamo visto soprattutto nei tempi covid quando a causa appunto del virus qualche dipendente era costretto ad assenza anche abbastanza lunghe tutti gli adempimenti anche quelli urgenti venivano presi in carico dagli altri per cui è anche una forma di supporto per i dipendenti inoltre gestione associata non significa cambiare continuamente sede di lavoro perché come dicevo di norma un dipendente assegnato ad un comune non solo sarà anche opportuno incentivare i dipendenti dal punto di vista economico quindi introduzione degli incentivi IMU a livello associato che è un po' particolare nel senso che negli incentivi in unione per gli incentivi in unione il regolamento viene approvato dall'unione il progetto fatto da responsabile del funzionario responsabile ma il fondo viene alimentato con le entrate dei comuni perché come sapete i tributi come ho detto tante volte riscuote direttamente il comune quindi i comuni alimenteranno il fondo e cosa può succedere? per fortuna è stata risolta dalla Corte dei Conti in sezione centrale la questione dell'approvazione del bilancio del 31-12 ma non è stata risolta purtroppo quella dell'approvazione dei rendiconti per cui se un comune approva il rendiconto del 30 aprile non può non contribuirà ad alimentare il fondo paradossalmente avremo un fondo alimentato non da tutti i comuni ma ciò non toglie che tutti i dipendenti dell'Unione avranno diritto in base a quelli che saranno gli esiti del progetto elaborato dal funzionario responsabile avranno diritto agli incentivi il funzionario responsabile sulle funzioni del funzionario responsabile non sto a dilungarmi perché sicuramente sono già stati detti in tanti corsi ovviamente verrà nominato dalle giunte comunali di ciascun comune proprio perché la protesta impositiva rimane ai comuni e visto che l'Unione comunque comporta un un ampliamento della platea dei contribuenti occorrerà e sarà opportuno anche designare un vice responsabile quindi sarà il funzionario responsabile ad indicare e a nominare il vice responsabile io comunque un passaggio in giunta lo farei anche per la nomina del vice responsabile vice responsabile che avrà le stesse funzioni del funzionario responsabile quindi anche potere di firma in caso di assenza o impedimento per quanto riguarda i criteri di ripartimento è un altro elemento fondamentale da tener conto nella struttura dell'ufficio tributo è il criterio di ripartizione delle spese di gestione che è indicato nella convenzione di conferimento dell'ufficio tributo in unione e praticamente il criterio di ripartizione delle spese sui comuni il criterio più a cuo a mio avviso è quello della popolazione cioè la ripartizione delle spese in base al numero di abitanti di ciascun comune se il servizio tributi è conferito in unione ogni comune deve essere trattato nello stesso modo perché comunque la platea è l'unione per cui il criterio della popolazione mi sembra il più corretto tuttavia è il più equa tuttavia può comportare in fase di prima costituzione degli impatti sul bilancio dei singoli comuni nel senso che alcuni comuni potrebbero avere un aumento notevole di spesa per l'ufficio tributi quindi nei primi anni alcuni comuni utilizzano il criterio della spesa storica che non impatta sui bilanci perché il contributo di ciascun comune viene individuato in base alla spesa sostenuta da ciascun ente nell'anno nei due precedenti poi ci possono essere dei criteri misti ad esempio per alcune tipologie di spesa particolari si possono individuare e inserire nella convenzione dei criteri particolari per quanto riguarda l'organizzazione logistica abbiamo già detto che l'ufficio tributi l'ufficio unico dei tributi deve dotarsi di una sede centrale quindi un ufficio unico centrale che deve garantire la presenza di una postazione per ciascuno dei dipendenti dell'unione e uno spazio per le riunioni è auspicabile che sia posizionato in posizione centrale rispetto all'unione in modo che non sia troppo distante da tutti i comuni tuttavia verranno mantenuti gli uffici tributi sui singoli comuni per garantire il ricevimento al pubblico e sarà poi il compito infatti del funzionario responsabile definire l'organizzazione del lavoro quindi dire quali giornate i dipendenti rimarranno presso le sedi comunali per garantire il ricevimento al pubblico e quali giorni invece ritrovarsi presso l'ufficio unico centrale e in effetti l'attività di front office continua a essere svolta come abbiamo detto presso le sedi dei singoli comuni per fare ciò è opportuno che gli orari di ricevimento di tutti i comuni associati siano uniformati perché ciò consentirebbe poi ai dipendenti di svolgere tutti insieme l'attività di back office presso l'ufficio centrale di norma un dipendente assegnato da un comune per il quale svolge le attività assegnate dal funzionale responsabile e solitamente è specializzato nella gestione di un tributo quindi specializzato nell'Immu o nella Tari ad esempio per il comune F c'è un dipendente specializzato in Immu e uno per Tari ovviamente se il comune è molto piccolo ci sarà un dipendente che dovrà svolgere simultaneamente pratiche relative a più tributi come ad esempio Immu e Tari mentre per quanto riguarda l'attività di back office cioè quella che si svolge presso la sede centrale dell'ufficio teniamo presente che questa è importantissima perché garantisce l'unitarità dell'ufficio e costituisce il luogo di formazione e programmazione dell'ufficio tributi tra l'altro queste giornate assicurano la comunicazione e la collaborazione tra i dipendenti quindi garantiscono la condivisione delle best practice e contribuiscono a rafforzare la coesione del gruppo l'obiettivo è quello della gestione in unione è quello di arrivare ad una situazione in cui i dipendenti hanno un senso di appartenenza per l'unione anziché per il singolo comune nella sede centrale è opportuno che siano accessibili tutte le banche dati comunali perché nella sede centrale si farà vedremo anche l'accertamento normalmente le attività svolte presso la sede centrale dovrà essere di 2 parra 3 giorni ma potranno essere anche meno soprattutto in relazione ai periodi di maggiore flusso quindi ad esempio quando esce la Tari o in prossimità delle scadente IMU quindi abbiamo visto le attività che si svolgeranno nella sede centrale sono quelle di programmazione di accertamento formazione confronto in merito ad adempimenti vari o anche confronto nella predisposizione dei regolamenti che saranno uguali per tutti i comuni altro elemento importante da definire nella struttura dell'ufficio tributi è la dotazione informatica innanzitutto occorrerà uniformare il software gestionale dei tributi e ciò garantirà un'informazione dell'emissione degli atti e dell'elaborazione dei dati quindi sia quelli relativi alle previsioni ma anche sappiamo quanto è importante con la contabilità ormonizzata anche in termini di rendicontazione agli uffici ragioneria in più informando il gestionale dei tributi ogni dipendente potrà in caso ad esempio di assenze prolungate potrà sostituire l'altro dipendente in quanto il software utilizzerà lo stesso e lo saprà utilizzare infine si avranno anche delle economie negli acquisti ci possono essere delle problematiche allora per quanto riguarda la dotazione informatica e riguarda ad esempio alcune gestionali che non trattano dati strettamente tributari ma importanti e fondamentali per la gestione dei tributi ad esempio l'anagrafe il protocollo o gli uffici tecnici applicativi degli uffici tecnici per quanto riguarda l'anagrafe il problema può sorgere se i singoli comuni hanno software gestionali di anagrafi diversi l'uno dalle altri in fase matura l'unione dovrebbe comunque incentivare l'omogeneizzazione quindi l'uniformazione di questi software ma se ci sono software differenti fino a quando ci sono software differenti occorrerà che almeno questi siano compatibili col software gestionale dell'ufficio tributi e qui sarà l'ufficio tributi a dover contattare la software house il fornitore del gestionale dei tributi per chiedere eventualmente anche programmini di conversione in relazione a ciascun software anagrafe anche per il protocollo ci può essere un problema legato al fatto che il protocollo normalmente di norma l'unione è dotato di un proprio protocollo quindi l'ufficio tributi in unione dovrebbe avere un proprio protocollo unione il problema riguarda la protocollazione in entrata soprattutto se i singoli comuni hanno dei software gestionali diversi per il protocollo diversi da quelli dell'unione in tal caso sconsiglio agli uffici tributi di protocollare direttamente in entrata perché comporterebbe carichi di lavori enormi ma in questo caso si potrebbe continuare a protocollare visto che comunque le entrate sono di competenza dei comuni continuare a protocollare sia in entrata che in uscita come comune anche se ripeto la situazione più corretta sarebbe quella di avere protocolli in unione veniamo e sono in chiusura veniamo all'ultimo elemento da definire nel progetto della struttura dell'ufficio tributi che è la rendicontazione rendicontazione innanzitutto delle spese comuni quindi l'unione dovrà disciplinare nella convenzione le modalità di rendicontazione delle spese ai comuni quindi anche in base abbiamo detto ai criteri di riparto e solitamente l'unione chiede ai comuni un acconto per le spese dell'ufficio tributi e a fine anno in corso d'anno e a fine anno invece presenta il rendiconto analitico con tutte le spese dettagliate e chiede la richiesta e procede con la richiesta del saldo e questo per quanto riguarda le rendicontazioni delle spese comuni ma anche lo creerà disciplinare la rendicontazione dell'entrata ai comuni rendicontazione che dovrà essere uniforme quindi soprattutto tenuto conto di quelli che sono le novità legate alla contabilità romanizzata quindi uniformazione nella rendicontazione degli accertamenti e degli incassi divisi per tipologia di entrata santeone interessi e tributo piani di ratificazione con le relative dati di scadenza quindi distinte per annualità perché così vuole la contabilità armonizzata quindi insomma ha un'informazione anche nelle rendicontazioni delle entrate ai comuni sono già l'una io ho finito qui non so non credo che ci sia tempo per delle domande adesso chiedo informazione ad Alessio in ogni caso vi ricordo vi ringrazio innanzitutto per l'attenzione vi ricordo che nell'ultima slide c'è la mia mail per cui se avete necessità di chiarimenti o volete sottoporre delle domande potete scrivermi tranquillamente allora guarda siamo veramente in dirittura d'arrivo noi raccogleremo le domande però in effetti è arrivato solo un quesito se magari vogliamo rispondere al volo che ne pensi Giacomo te lo va bene allora la prima domanda il funzionario della riscossione deve essere nominato solo per la riscossione coattiva o anche per la riscossione spontanea allora il funzionario della riscossione è nominato soltanto in relazione alla riscossione coattiva e tra l'altro come ho detto prima le funzioni esclusive del funzionario della riscossione sono veramente poche perché per la riscossione coattiva come dicevo un pignoramento dei crediti presso terti può essere o un preavviso di fermo amministrativo può essere anche fatto dal comune semplicemente con la sottoscrittione del responsabile dell'entrata quindi il funzionario nominato dalla giunta il funzionario della riscossione che deve essere nominato tra i dipendenti dell'ente ha come funzione esclusiva quella dei pignoramenti mobiliari pignoramenti immobiliari e pubblici incanti per la riscossione ordinaria non occorre non occorre nessuna nomina perché il funzionario responsabile del tributo quello nominato dalla giunta bene allora io ringrazio Giacomo per aver risposto alla collega e quindi insomma ringraziamo tutti quanti voi di aver partecipato e a questo punto vi auguriamo veramente un buon buon weekend e ci vediamo con voi anche la settimana prossima se volete insomma Giacomo grazie ancora di tutto per davvero grazie grazie a tutti e buon pomeriggio arrivederci a tutti grazie a tutti